A miei spalle si spalanca l'altopiano di Fosses con i suoi circhi glaciali, il laghetto, siamo in direzione del rifugio Biella. In montagna non è come essere giù in città o al mare, bisogna sapersi un po' adattare a quello che si può avere, sapere la flora, la fauna, sapere un po' di storia della montagna, devi sapere la storia dell'alpinismo, devi sapere un po' di tutto. Perché sicuro i clienti ti chiedono perché di là si vede questo, quell'animale, quella montagna, devi sapere un po' di geografia, un po' di tutto. I turisti che vengono qua vengono motivati, non vengono così tanto per andare in montagna, no è cambiato tutto, è cambiato il tipo di turista, non è solo quello che viene per camminare e basta.